Radio2pod.rai.it, libera la radio. Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi. Siamo arrivati al nostro ultimo incontro, abbiamo percorso nel corso di queste quattro settimane la storia della logica, da prima logica filosofica e poi via via, sempre più precisamente la logica matematica. Siamo partiti da lontano, addirittura dalle origini del linguaggio, abbiamo visto come perché si possa parlare di logica è necessario che ci sia anzitutto un linguaggio ovviamente strutturato e che quindi ci siano sostantivi, aggettivi, verbi che corrispondono agli oggetti, alle proprietà e alle azioni e soprattutto c'è bisogno che ci sia la distinzione tra il vero e il falso. Senza questa distinzione la logica naturalmente non è possibile, perlomeno non la logica di cui abbiamo parlato noi e nel momento in cui arriva la distinzione tra vero e falso, tra verità e falsità, tra affermazioni e negazioni, si può incominciare il nostro percorso ed è stato un percorso questo che ci ha portato a visitare, naturalmente molto brevemente, a volo d'uccello, come si potrebbe dire, circa 3.000 anni di storia. Siamo partiti parlando di Omero, parlando di episodi legati ai primi poemi, alle menzogne che si sono cominciate a dire fin dagli inizi dell'antichità e che si continuano a dire spesso, soprattutto in certe professioni più che in altre naturalmente, ma i logici cercano di evitarle e cercano anche semplicemente di fare un canto, un peana alla verità. Quali sono stati i grandi passaggi di questo nostro racconto? Abbiamo parlato per esempio di Parmenide, colui che per primo ha studiato il verbo essere e le sue connessioni con la negazione, il famoso paradosso del non essere. Abbiamo parlato di Pitagora che ha introdotto la visione fondamentale che poi ha generato la scienza, cioè il fatto che tutto sia numero, che tutto sia riducibile al numero e che attraverso invece la logica, attraverso un ragionamento logico, ha dimostrato che questa sua stessa visione aveva dei problemi, aveva delle inconsistenze, che c'era qualche cosa che non era riducibile al numero razionale, che c'erano gli incommensurabili o gli irrazionali. Piano piano siamo andati a visitare alcune delle aiuole del pensiero greco, abbiamo parlato naturalmente di Platone, di come Platone nel Timeo abbia ristrutturato l'immagine del mondo pitagorico, fondandola questa volta non più soltanto sull'aritmetica ma sulla geometria, la geometria della quale si diceva all'entrata dell'accademia non entri chi non la conosce. Poi siamo passati piano piano a vedere quali erano le strutture fondamentali del linguaggio, strutture che nel caso del soggetto e del predicato sono per l'appunto state enucleate o isolate per la prima volta da Platone, soprattutto nel sofista la differenza fra soggetto e predicato, fra nomi e verbi e poi soprattutto in realtà da Aristotele nell'organo che ha isolato le prime e le più importanti leggi del ragionamento matematico, quelle dei cosiddetti sillogismi. E poi abbiamo concluso il nostro primo terzo di racconto parlando di un altro dei grandi greci, Crisippo, è un'altra delle grandi scuole dell'antichità insieme all'accademia di Platone e al liceo di Aristotele che era invece la stoa, gli stoici. E gli stoici hanno introdotto nel caso della logica una componente essenziale, cioè l'analisi delle proposizioni composte attraverso quelle particelle del linguaggio che si chiamano i connettivi, cioè quelle che noi identifichiamo oggi con le proposizioni e, non, o, se, allora e così via. E questo è stato il primo grande terzo del nostro racconto, il racconto che appunto si riferisce alla logica greca. La seconda parte del nostro racconto, il secondo terzo, è stato invece un tentativo di far vedere le grandi prefigurazioni, cioè i visionari, i sognatori che hanno introdotto nel loro pensiero ciò che poi si sarebbe realizzato nella logica moderna. Abbiamo parlato ad esempio di Lullo e di Leibniz che hanno sognato di poter costruire un linguaggio universale, quella che Leibniz chiamava una caratteristica universale, e di poter descrivere attraverso questo linguaggio universale tutte le scienze, arrivando al sogno del calculemus, cioè il fatto di poter decidere se un ragionamento è corretto oppure no semplicemente sulla base di un calcolo matematico, qualche cosa che poteva sembrare effettivamente avveniristico all'epoca di Leibniz e che poi però in parte perlomeno, ma soltanto in parte, è stato realizzato dalla logica moderna. Soltanto in parte non perché la logica sia stata inadeguata al compito che si era prefissa, ma perché la logica ha scoperto che certe cose non si potevano fare con i grandi teoremi di limitatezza, questi grandi teoremi che sono stati anticipati in parte da Kant. Kant che nella critica della ragion pura, in quell'opera che originalmente si chiamava i limiti della sensibilità e della ragione, che aveva intuito che c'erano dei limiti alla ragione, cioè non era possibile allo stesso tempo richiedere alla ragione che essa fosse completa e consistente, completa nel senso di poter considerare tutte le idee che essa voleva considerare e consistente nel senso di non cadere in contraddizione. L'impianto della critica della ragion pura dice per l'appunto questo, che se si vogliono considerare idee trascendentali come quella di mondo, di anima e di Dio, allora si cade nell'incoerenza, si cade nelle antinomie. E rivoltato questo risultato è effettivamente quello che poi divenne il teorema di Gödel, il fatto cioè che se la matematica vuole essere consistente come certamente vuole essere, cioè non vuole poter dimostrare delle contraddizioni, allora non può essere completa. E questo è qualche cosa che appunto poi Gödel in seguito dimostrerà. E poi abbiamo visto nell'ultimo terzo l'inizio di questa logica matematica della matematizzazione della logica, matematizzazione del ragionamento. Colui che iniziò quest'impresa si chiamava George Bull, l'inglese che morì, come ricordate, forse a secchiate d'acqua dopo una polmonite tirategli dalla moglie, ebbene quest'inglese che però capì che i numeri 0 e 1 potevano funzionare come delle rappresentazioni quasi iconiche del vero e del falso, che come abbiamo detto poco fa sono in realtà le vere e la vera essenza della logica, ebbene vero e falso possono diventare 0 e 1 e in questo caso allora la sottrazione, la moltiplicazione diventano versioni matematiche delle operazioni logiche come la negazione e la congiunzione. Abbiamo visto anche che in logica ad un certo punto arrivò il vero protagonista che è l'infinito, protagonista che fu introdotto in particolare da Georg Cantor, che costruì un'intera teoria matematica dell'infinito e che scoprì soprattutto con grande sorpresa che non soltanto era possibile parlare dell'infinito in maniera non contraddittoria, contrariamente a quello che pensavano per esempio i greci che credevano che appunto l'infinito fosse indefinibile, non si potesse parlarne in maniera consistente, ma addirittura Cantor scoprì che di infiniti ce ne sono tanti, di infiniti ce ne sono infiniti e che ciò nonostante questo non è un mero gioco dialettico ma che si può fare una teoria matematica consistente dei vari infiniti. E poi finalmente siamo arrivati al sogno della grande logica, il sogno iniziato da Frege e poi portato a termine da Russell, cioè l'idea di poter ridurre l'intera matematica alla sola logica. L'ultima parte del nostro racconto ha mostrato come i sogni, le prefigurazioni di personaggi che vanno appunto da Lullo a Leibniz e Kant soprattutto, siano poi state realizzate in forma matematica completa, formale dai grandi logici della storia. Abbiamo parlato naturalmente degli approcci fondazionali dati da due grandi matematici, i due più grandi matematici del volgere del secolo tra l'ottocento e il novecento, da una parte Hilbert, colui che cercò di studiare in forma matematica le proprietà metamatematiche dei sistemi, cioè proprietà come la consistenza, la completezza, e dall'altra parte invece Poincaré che aveva intuito che l'intuizione è fondamentale, che la logica da sola non basta. Hilbert fece molti sogni, molti programmi e però bisogna riconoscere col senno di poi che colui che aveva ragione, veramente ragione, era Poincaré. Poincaré che non fece altro in queste sue osservazioni, sui fondamenti della matematica, che ritornare in realtà all'idea di Kant, all'idea che la matematica non sia un qualche cosa di analitico, cioè puramente logico, che la si possa fare soltanto in base al ragionamento, ma che sia invece qualche cosa di sintetico a priori, cioè c'è una parte ovviamente di ragionamento che è l'a priori, ma c'è anche una parte di intuizione che è invece il sintetico. Ed ecco che allora queste idee da una parte di Hilbert e dall'altra parte di Poincaré sono poi confluite alla fine nei grandi risultati di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni. I risultati cioè dimostrati da Gödel, da Turing e da Tarsky. Sono risultati quasi tutti di limitazione. Dico quasi tutti perché uno dei teoremi di Gödel, cioè il primo teorema, il teorema di completezza, è un risultato positivo. Dice che gli assiomi del sistema di White e Russell del principio a matematica sono completi per quanto riguarda le verità logiche. Ma subito dopo il teorema del 1931 aggiunge che però invece questi stessi assiomi dei principi a matematica sono incompleti per quanto riguarda l'arimetica in particolare e la matematica in generale. Dunque la matematica è incompleta, non è possibile trovare un sistema di assiomi che permetta di derivare tutte le verità. Non soltanto è incompleta ma è anche, come dimostrò Turing invece, indecidibile. La logica, benché abbia dei sistemi che sono completi come appunto dimostra il primo teorema di Gödel, è però indecidibile. Non ci sono delle macchine, non ci sono dei programmi, non ci sono degli algoritmi che permettano di decidere una volta per tutte se data una formula, questa formula o questa affermazione è una verità logica oppure una falsità logica. L'ultimo dei grandi teoremi di limitazione al quale abbiamo accennato brevemente ieri è il teorema di indefinibilità della verità. Teorema dimostrato da Tarsky usando gli stessi metodi di Gödel come d'altra parte aveva già fatto Turing, cioè si può parlare della verità, si può definirla ma lo si può fare soltanto al di fuori, soltanto all'interno di un metalinguaggio. Dentro il linguaggio stesso invece non è possibile definire la verità, la verità dunque è indefinibile, la logica è indecidibile, la matematica è incompleta, tutti questi risultati negativi sono i grandi risultati di autoconsapevolezza che la matematica e la logica sono riusciti a dimostrare per l'appunto nel corso del 1900, del secolo passato e attraverso i risultati di queste grandi personalità che costituiscono forse un po' la trinità di questa nostra religione, cioè Gödel, Turing e Tarsky. Con questo abbiamo concluso naturalmente la storia della logica ma ci rimane ancora da dare i saluti agli ascoltatori. Siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento e all'ultima tranche del nostro appuntamento. La logica, l'abbiamo raccontata, è stata una storia effettivamente di matematica, di problemi legati alla filosofia e alla matematica, ma in questi ultimi minuti che ci rimangono vorrei segnalare che in realtà la logica oggi è diventata parte non soltanto della matematica ma anche delle scienze più in generale. Per esempio attraverso metodi puramente logici sono stati dimostrati importanti teoremi, ad esempio nel campo della fisica. Ricordiamo che l'attività generale è un classico esempio di una teoria che è stata sviluppata da Einstein in maniera puramente logica, prima ancora che se ne avessero le verifiche sperimentali, anzi verifiche che hanno dovuto attendere decenni prima di poter essere effettuate. Ci sono altri teoremi importanti nel caso della fisica, il famoso teorema di Bell per esempio, che dimostra che ci sono delle grandi limitazioni anche nel campo della nozione di realtà oppure il principio di indeterminazione di Heisenberg che fa vedere come ci sia un parallelo tra la verità da una parte e la realtà dall'altra. Così come la maggior parte delle verità matematiche non si può dimostrare all'interno dei sistemi formali, così in realtà il principio di indeterminazione ci dice che la maggior parte delle proprietà della natura non si possono misurare all'interno della fisica moderna. Cioè ci sono limitazioni che sono molto simili, spesso si parla di Gödel e di Heisenberg come due facce di una stessa medaglia. Coloro che hanno dimostrato da un lato le limitazioni della matematica e dall'altro lato le limitazioni della fisica. Ma addirittura ci sono applicazioni della logica in campi che potrebbero sembrare insospettati o insospettabili. Per esempio nel 1953 Francis Crick e James Watson divennero i più famosi biologi del secolo riuscendo a scoprire qual è la struttura del DNA, la famosa doppia elica. Ebbene qualche anno prima però nel 1948 von Neumann di cui abbiamo citato il nome in una delle puntate precedenti riferita alla costruzione del computer aveva già usato le tecniche del teorema di Gödel per far vedere che in realtà attraverso quelle stesse tecniche era possibile scoprire a priori prima ancora di avere addirittura dei dati sperimentali qual era il meccanismo di riproduzione biologica, il meccanismo di riproduzione della vita. Chi fosse interessata a queste cose può leggerle nel libro che ho già citato di Hofstadter, Gödel e Scherbach, in cui si fa vedere come i teoremi di Gödel, e qui sta veramente una parte del loro interesse, i teoremi di Gödel sono in realtà una forma di cose che la natura aveva già scoperto per conto suo che è per l'appunto il meccanismo di riproduzione. Quindi anche nella genetica, anche nella medicina, addirittura la logica ha fatto il suo ingresso, ma addirittura nella politica, un campo che si potrebbe pensare lontanissimo dalla logica, nella politica e nell'economia. Premi Nobel sono stati dati, per esempio nel 1972 a Kenneth Arrow e più in seguito nel 1998 ad Amartya Sen, perché hanno dimostrato all'interno della loro disciplina risultati che sono l'analogo dei teoremi di Gödel. In due parole, Arrow ha dimostrato ad esempio che la nozione di democrazia non è definibile, esattamente come Tarski aveva dimostrato che la nozione di verità non è definibile. Amartya Sen ha dimostrato la stessa cosa per la nozione di diritto. Ed ecco che allora scopriamo che la logica è qualcosa forse di più generale, non è soltanto un soggetto che debba interessare i matematici o i filosofi, è un soggetto che ci dovrebbe interessare tutti perché mostra quali sono le limitazioni del linguaggio e del pensiero e quindi ci rende più autoconsapevoli della nostra limitatezza umana. Grazie agli ascoltatori e buonasera e arrivederci. Radio 2pod.rai.it Libera la radio. Intuito che c'erano dei limiti alla ragione, cioè non era possibile allo stesso tempo richiedere alla ragione che essa fosse completa e consistente. Completa nel senso di poter considerare tutte le idee che essa voleva considerare e consistente nel senso di non cadere in contraddizione. L'impianto della critica della ragione pura dice per l'appunto questo, che se si vogliono considerare idee trascendentali come quella di mondo, di anima e di Dio, allora si cade nell'incoerenza, si cade nelle antinomie. E rivoltato questo risultato è effettivamente quello che poi divenne il teorema di Goethe, il fatto cioè che se la matematica vuole essere consistente come certamente vuole essere, cioè non vuole poter dimostrare delle contraddizioni, allora non può essere completa. E questo è qualcosa che appunto poi Gödel in seguito dimostrerà. E poi abbiamo visto nell'ultimo terzo l'inizio di questa logica matematica della matematizzazione, della logica matematizzazione del ragionamento. Colui che iniziò quest'impresa si chiamava George Bull, l'inglese che morì come ricordate forse a secchiate d'acqua dopo una polmonite tirategli dalla moglie, ebbene questo inglese che però capì che i numeri 0 e 1 potevano funzionare come delle rappresentazioni quasi iconiche del vero e del falso, che come abbiamo detto poco fa sono in realtà le vere e la vera essenza della logica, ebbene vero e falso possono diventare 0 e 1 e in questo caso allora la sottrazione, la moltiplicazione diventano versioni matematiche delle operazioni logiche come la negazione e la congiunzione. Abbiamo visto anche che in logica ad un certo punto arrivò il vero protagonista che è l'infinito, protagonista che fu introdotto in particolare da Georg Cantor che costruì un'intera teoria matematica dell'infinito e che scoprì soprattutto con grande sorpresa che non soltanto era possibile parlare dell'infinito in maniera non contraddittoria, contrariamente a quello che pensavano per esempio i greci che credevano che appunto l'infinito fosse indefinibile, non si potesse parlarne in maniera consistente, ma addirittura Cantor scoprì che di infiniti ce ne sono tanti, di infiniti ce ne sono infiniti e che ciò nonostante questo non è un mero gioco dialettico ma che si può fare una teoria matematica consistente dei vari infiniti. E poi finalmente siamo arrivati al sogno della grande logica, il sogno iniziato da Frege e poi portato a termine da Russell, cioè l'idea di poter ridurre l'intera matematica alla sola logica. L'ultima parte del nostro racconto ha mostrato come i sogni, le prefigurazioni di personaggi che vanno appunto da Lullo a Leibniz e Kant soprattutto, siano poi state realizzate in forma matematica completa, formale dai grandi logici della storia. Abbiamo parlato naturalmente degli approcci fondazionali dati da due uri invece indecidibile. La logica, benché abbia dei sistemi che sono completi come appunto dimostra il primo teorema di Gödel, è però indecidibile. Non ci sono delle macchine, non ci sono dei programmi, non ci sono degli algoritmi che permettano di decidere una volta per tutte se data una formula, questa formula o questa affermazione è una verità logica oppure una falsità logica. L'ultimo dei grandi teoremi di limitazione al quale abbiamo accennato brevemente ieri è il teorema di indefinibilità della verità. Teorema dimostrato da Tarsky usando gli stessi metodi di Gödel come d'altra parte aveva già fatto Turing, cioè si può parlare della verità, si può definirla, ma lo si può fare soltanto al di fuori, soltanto all'interno di un metalinguaggio. Dentro il linguaggio stesso invece non è possibile definire la verità, la verità dunque è indefinibile, la logica è indecidibile, la matematica è incompleta, tutti questi risultati negativi sono i grandi risultati di autoconsapevolezza che la matematica e la logica sono riusciti a dimostrare per l'appunto nel corso del 1900, del secolo passato e attraverso i risultati di queste grandi personalità che costituiscono forse un po' la trinità di questa nostra religione, cioè Gödel, Turing e Tarsky. Con questo abbiamo concluso naturalmente la storia della logica, ma ci rimane ancora da dare i saluti agli ascoltatori. Siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento e all'ultima tranche del nostro appuntamento. La logica, l'abbiamo raccontata, è stata una storia effettivamente di matematica, di problemi legati alla filosofia e alla matematica, ma in questi ultimi minuti che ci rimangono vorrei segnalare che in realtà la logica oggi è diventata parte non soltanto della matematica ma anche delle scienze più in generale. Per esempio attraverso metodi puramente logici sono stati dimostrati importanti teoremi, ad esempio nel campo della fisica. Ricordiamo che l'attività generale è un classico esempio di una teoria che è stata sviluppata da Einstein in maniera puramente logica, prima ancora che se ne avessero le verifiche sperimentali, anzi verifiche che hanno dovuto attendere decenni prima di poter essere effettuate. Ci sono altri teoremi importanti nel caso della fisica, il famoso teorema di Bell per esempio, che dimostra che ci sono delle grandi limitazioni anche nel campo della nozione di realtà, oppure il principio di indeterminazione di Heisenberg che fa vedere come ci sia un parallelo tra la verità da una parte e la realtà dall'altra. Così come la maggior parte delle verità non si può, le verità matematiche non si può dimostrare all'interno dei sistemi formali, così in realtà il principio di indeterminazione ci dice che la maggior parte delle proprietà della natura non si possono misurare all'interno della fisica moderna. Cioè ci sono limitazioni che sono molto critica della ragion pura, in quell'opera che originalmente si chiamava i limiti della sensibilità e della ragione, che aveva intuito che c'erano dei limiti alla ragione. Cioè non era possibile allo stesso tempo richiedere alla ragione che essa fosse completa e consistente. Completa nel senso di poter considerare tutte le idee che essa voleva considerare e consistente nel senso di non cadere in contraddizione. L'impianto della critica della ragion pura dice per l'appunto questo, che se si vogliono considerare idee trascendentali come quella di mondo, di anima e di Dio, allora si cade nell'incoerenza, si cade nelle antinomie. E rivoltato questo risultato è effettivamente quello che poi divenne il teorema di Goethe, il fatto cioè che se la matematica vuole essere consistente come certamente vuole essere, cioè non vuole poter dimostrare delle contraddizioni, allora non può essere completa. E questo è qualche cosa che appunto poi Goethe in seguito dimostrerà. E poi abbiamo visto nell'ultimo terzo l'inizio di questa logica matematica della matematizzazione, della logica matematizzazione del ragionamento. Colui che iniziò quest'impresa si chiamava George Bull, l'inglese che morì, come ricordate, forse a secchiate d'acqua dopo una polmonite tirategli dalla moglie. Ebbene questo inglese che però capì che i numeri 0 e 1 potevano funzionare come delle rappresentazioni quasi iconiche del vero e del falso, che come abbiamo detto poco fa sono in realtà le vere e la vera essenza della logica, ebbene vero e falso possono diventare 0 e 1 e in questo caso allora la sottrazione, la moltiplicazione diventano versioni matematiche delle operazioni logiche come la negazione e la congiunzione. Abbiamo visto anche che in logica ad un certo punto arrivò il vero protagonista che è l'infinito, protagonista che fu introdotto in particolare da Georg Cantor che costruì un'intera teoria matematica dell'infinito e che scoprì soprattutto con grande sorpresa che non soltanto era possibile parlare dell'infinito in maniera non contraddittoria, contrariamente a quello che pensavano per esempio i greci che credevano che appunto l'infinito fosse indefinibile, non si potesse parlarne in maniera consistente, ma addirittura Cantor scoprì che di infiniti ce ne sono tanti, di infiniti ce ne sono infiniti e che ciononostante questo non è un mero gioco dialettico ma che si può fare una teoria matematica consistente dei vari infiniti. E poi finalmente siamo arrivati al sogno della grande logica, il sogno iniziato da Frege e poi portato a termine da Russell, cioè l'idea di poter ridurre l'intera matematica alla sola logica. L'ultima parte del nostro racconto ha mostrato come i sogni, le prefigurazioni di personaggi che vanno appunto da Lullo a Leibniz e Kant soprattutto siano poi state realizzate in forma matematica completa formazione tra il vero e il falso. Senza questa distinzione la logica naturalmente non è possibile, perlomeno non la logica di cui abbiamo parlato noi e nel momento in cui arriva la distinzione tra vero e falso, tra verità e falsità, tra affermazioni e negazioni si può incominciare il nostro percorso ed è stato un percorso questo che ci ha portato a visitare naturalmente molto brevemente a volo d'uccello come si potrebbe dire circa 3.000 anni di storie. Siamo partiti parlando di Omero, parlando di episodi legati ai primi poemi, alle menzogne che si sono cominciate a dire fin dagli inizi dell'antichità e che si continuano a dire spesso soprattutto in certe professioni più che in altre naturalmente, ma i logici cercano di evitarle e cercano anche semplicemente di fare un canto, un peana alla verità. Quali sono stati i grandi passaggi di questo nostro racconto? Abbiamo parlato per esempio di Parmenide, colui che per primo ha studiato il verbo essere e le sue connessioni con la negazione, il famoso paradosso del non essere. Abbiamo parlato di Pitagora che ha introdotto la visione fondamentale che poi ha generato la scienza, cioè il fatto che tutto sia numero, che tutto sia riducibile al numero e che attraverso invece la logica, attraverso un ragionamento logico ha dimostrato che questa sua stessa visione aveva dei problemi, aveva delle inconsistenze, che c'era qualche cosa che non era riducibile al numero razionale, che c'erano gli incommensurabili o gli irrazionali. Piano piano siamo andati a visitare alcune delle aiuole del pensiero greco, abbiamo parlato naturalmente di Platone, di come Platone nel Timeo abbia ristrutturato l'immagine del mondo pitagorico, fondandola questa volta non più soltanto sull'aritmetica ma sulla geometria, la geometria della quale si diceva all'entrata dell'accademia non entri chi non la conosce. E poi siamo passati piano piano a vedere quali erano le strutture fondamentali del linguaggio, strutture che nel caso del soggetto e del predicato sono per l'appunto state enucleate o isolate per la prima volta da Platone, soprattutto nel sofista, la differenza fra soggetto e predicato, fra nomi e verbi, e poi soprattutto in realtà da Aristotele nell'organo, che ha isolato le prime e le più importanti leggi del ragionamento matematico, quelle dei cosiddetti sillogismi. E poi abbiamo concluso il nostro primo terzo di racconto parlando di un altro dei grandi greci, crisippo è un'altra delle grandi scuole dell'antichità insieme all'accademia di Platone e al liceo di Aristotele che era invece la stoa, gli stoici. E gli stoici hanno introdotto nel caso della logica una componente essenziale, cioè l'analisi delle proposizioni composte attraverso quelle particelle del linguaggio che si chiamano i connettivi, cioè quelle che noi identifichiamo.